I'm gonna love you Noi andiamo nel negozio Per inserire diciamo il mio codice creatore Si basso il supporto a un creatore Poi si va a mettere Tia The Gamer Y maiuscolo E faccio accetta Perfetto adesso mi supporterete Per ogni acquisto Quindi se io vado ad acquistare ad esempio questo C'è scritto questo acquisto Supporterà Tia The Gamer Che sono io ovviamente On and on We'll go